no scusate a parte lo sketch non è bello iniziare così il video però era per farvi capire ma lo capirete dal titolo dalla copertina partita noiosissima sto parlando di torres milan futuro il recupero della terza giornata per quanto riguarda la serie c girone b perché il milan futuro aveva posticipato la partita della terza giornata appunto con la torres perché aveva tanti nazionali nella pausa appunto e quindi gli era praticamente impossibile poter giocare quindi hanno chiesto di posticiparla torres che tra l'altro ha già giocato una partita in più e nonostante il milan futuro avesse il vantaggio di riposare di più della torres appunto in casa qui a sassari il milan non va oltre il pareggio 0 a 0 diciamo un punto guadagnato perché comunque la torres l'anno scorso 76 punti seconda in classifica del girone b che ha sognato un po la promozione in serie b poi c'è stato un cesena davanti troppo più forte di un'altra categoria è ok il milan futuro neonata quest'anno è ok però ragazzi in campionato ancora non si vince sono arrivati tre pareggi se non sbaglio e una sconfitta oppure sono due pareggi e due sconfitte non mi ricordo so solo che sulla casella vittorie siamo ancora a zero ora ripilogando abbiamo perso con l'ascoli perso con l'entella si sono due vittorie due pareggi e due sconfitte con la torres pensavo sinceramente di perdere perché la torres ha una bella squadra il milan purtroppo si vede è una squadra appena nata con tantissimi giovani che devono farsi le ossa devono avere esperienza e quindi c'è poco da dire dobbiamo trovare una soluzione nelle palle inattive perché anche stavolta nonostante le poche occasioni della torres c'è si vede il problema difesa sulle palle inattive non parliamo poi della prima squadra che ieri con liverpool l'abbiamo visto anche in prima squadra una statistica interessante che va contro il milan futuro è che l'esordio per una squadra in serie b no scusate per una squadra b in serie c ha sempre trovato la vittoria alla terza giornata nel primo anno in cui arrivava nel campionato di serie c così la juventus next gen che allora si chiamava ancora juventus under 23 alla terza giornata trovò la prima vittoria della sua storia in serie c stessa cosa per l'atlanda under 23 che alla terza giornata trovò la vittoria il milan invece non trova neancora la vittoria questa era la terza giornata però era anche comunque la quarta partita in campionato e ancora nessuna vittoria volevo dirvi appunto questa statistica che va contro appunto la squadra di daniele bonera nel primo tempo c'è un'occasione per parte prima il milan con fall salvata sulla linea e poi l'occasione di fishnaller per la squadra della appunto della torres poco da dire ragazzi cioè mi stavo addormentando forse era meglio che seguivo la champions league però vabbè ho detto c'è il milan futuro guardiamolo vediamo un po' come va sapete che poi ne parlo da quest'anno io faccio di tutto anche per portare il post partita del milan futuro volevo fare la live reaction sinceramente ho fatto il sondaggio mentre cenavo ancora non era deciso definito se farlo o meno poi quando stavo mettendo la partita ho visto che il sondaggio effettivamente era stato vinto per il sì però posso dire che a questo punto meglio che non ho fatto la live reaction perché avrei rischiato di addorbentarmi sono sincero il milan adesso la prossima se non sbaglio ha il rimini non è una partita facile rimini che se non sbaglio in casa non hanno ancora vinto tra l'altro e credo di essere appunto che saremo in casa del rimini perché questa era una trasferta con la torres quella precedente eravamo a busto arsizio quindi in casa contro l'ascoli abbiamo perso poi se non sbaglio avremo la spal a busto arsizio quindi non partite facili nel rimini perché vorrà provare a trovare i tre punti casalinghi che gli mancano in questo campionato e poi in casa contro la spal che è tornata a vincere e finalmente ha tolto il segno meno dai punti in classifica perché aveva avuto una penalizzazione quindi non sarà facile tra l'altro per me vedere la spal è sempre un motivo di nostalgia visto che c'è radrezza in campo tra l'altro ha segnato nell'ultima partita e stavo appunto aspettando questa partita per chiudere diciamo la giornata numero 4 solo che questa era la terza giornata effettivamente però volevo mettere questo recupero di partita tra torres e milan che è stata posticipata nel punto c dove andremo ad analizzare la quarta giornata quindi effettivamente nel prossimo punto c parlerò della quarta giornata e quindi la torres verrà comunque visionata due volte perché ha fatto sia la partita della quarta giornata ma ha recuperato anche questa che era della terza giornata quindi ne parleremo comunque anche nel punto c mi raccomando non mancate all'appuntamento perché ormai è appuntamento settimanale assolutamente da non perdere anche perché è bello vedere un po' svilupparsi tutta la classifica vedere un po' le dinamiche dei tre gironi di serie c tra l'altro ci sarà anche il turno infrasettimanale se non ho capito male quindi ci sarà tutti dei contenuti abbastanza ravvicinati quindi mi raccomando attivate la campanellina e iscrivetevi al canale perché arriveranno tanti 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 contenuti nelle prossime settimane speriamo di poter commentare presto una vittoria dei rossoneri di Bonera che però se continua così non so quanto rimarrà sulla panchina alla prossima sempre forza Milan anche se futuro anche se i risultati non stanno ancora arrivando